All'interno dei vestiti densi di vita, un viaggio della voce, all'interno delle parole dense di vita. Sono 50 anni che vivo nelle onde, nelle onde della nascita e della morte. E non c'è nulla da spiegare, più sto zitto e meglio è. Grazie. 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 Io da grande voglio fare l'ascensorista perché a me piace volare e l'ascensorista sistema di ascensori e a me piace volare. Grazie. 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 Grazie.